siamo allo stadio derby romalazio un signore capito arriva non trova il posto a un certo punto tre quattro gradinati sotto a lui che è un posto libero si avvicina e a quell'accanto gli fa così me scusi è libero sto posto lui fa si guarda tanto era al posto di mia moglie ma ormai è morta decepulmente tranquillamente oh grazie grazie gli fa ma com'è niente del posto a qualche parente e magari domenica prossima oggi stanno tutti al funerale